certo che mi pagano poco mi pagano non dico di no ma troppo poco una miseria se paragonato al lavoro che faccio su questo schifo di isola mica c'è luce qua sotto un fettore colpa del vulcano lavoro sporco ripeto accogliere contare contare e accogliere tenere la lista aggiornata un lavoraccio voglio la spiegare al ministro dell'inferno lui la fa facile il ministro dell'inferno lui alza la voce il ministro dell'inferno è più facile accogliere che respingere è più facile accogliere che respingere non è mica vero è falso non c'è niente di più falso signor ministro solo una carogna può mettere in giro una voce simile da quanto tempo sono le sue dipendenze signor ministro da quanto tempo sgobbo come uno schiavo tenere la lista aggiornata degli annegati le sembra cosa da poco signor ministro